Benvenuti ragazzi, oggi andiamo a preparare una bevanda che aiuta a prendere peso per chi vuole dimagrire e aiuta anche per chi ha mal di testa e quindi mal di testa e anche chi vuole mettersi a dieta e perdere il peso. Per prima cosa abbiamo bisogno di tagliare il nostro limone Abbiamo anche bisogno di due bastoncini di canela, aggiungiamo un cucchiaio di canela va bene uguale, se avete bastoncini usate bastoncini di canela. Andiamo ad aggiungere due cucchiai di caffè uno, due, sto usando caffè di marca Gambilongo, potete usare quelle che avete in casa. Dopodiché abbiamo bisogno di 150 ml di acqua E' pronto, andiamo a portare a bollizioni per 10 minuti massimo, 5 massimo 10 minuti, non di più Dopo 10 minuti di cottura, questa è quella che è quella nostra bevanda è pronto Andiamo a scolare Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di miele Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di miele Per chi ha mal di testa potete bevere quante volte ne avete mal di testa. Per chi lo fa per perdita di peso potete prendere mattina presto oppure a stomaco vuoto prima di pranzo o prima di andare a letto. Fateci sapere se funziona anche per voi. Grazie! Se ancora non vi siete iscritti in questo canale, fatelo! Lasciate un commento e mettete un like per aiutarti a crescere questo canale. Grazie mille! Ciao! Ehi god Ehi 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 Ehi